Ciao a tutti, il progetto di cui vi vorrei parlare e che credo dovrebbe vincere è il Disability Mouse. Di che cosa si tratta? Il Disability Mouse è un oggetto realizzato per semplificare l'autonomia all'utilizzo del pc a persone con disabilità motoria agli arti superiori e che viene governato totalmente con la bocca, attraverso la quale si riesce a dare sia la direzionalità sia il click al mouse grazie a un meccanismo di aspirazione d'aria. Perché dovrebbe vincere questo progetto? Credo per due motivi fondamentalmente. Il primo è che il suo ideatore Domenico Nocera è un ragazzo paraplegico del 1994 in seguito a un incidente motociclistico e quindi il fatto che venga da una persona che conosce questo tipo di problemi credo che sia anche un segnale molto importante e molto costruttivo. Il secondo è perché questo mouse è straordinario nella misura in cui riesce ad abbattere le barriere di comunicazione e accesso alla rete per le persone con disabilità agli arti superiori e quindi credo che sia anche un bellissimo segnale di speranza.